Buongiorno, buongiorno a tutti. Nel 2005, quando è iniziato a vendere immobili all'estero, la nostra pubblicità, noi operatori, era molto più semplice, ovvero sia si acquistavano delle pagine di giornali, la carta stampata, il web era ancora all'inizio, embrionale, non si aveva ancora contezze dell'andamento e di cosa sarebbe poi successo. Questo comunque ha aperto degli scenari particolari, ovvero sia chiunque di noi si voglia elevare o autodefinire esperto di un determinato settore, si gira un video, come sto facendo io adesso, lo pubblica in un social con qualche decina di lire, magari lo sponsorizza anche per avere più visibilità e si erge ad esperto e assoluto conoscitore di quella determinata materia o settore. Questo ha comportato ovviamente un bombardamento di informazioni, in tali casi magari non corrette, che però sempre con il web, con la stessa arma, possono essere confutate o raffrontate. Vi voglio raccontare oggi proprio di questo, della possibilità che avete tutti voi di mettere alla prova noi operatori del settore estero navigando in un sito, in un portale molto bello che raccoglie tutte le quotazioni, tutti i valori immobiliari all'andamento di mercato degli immobili nel mondo. E quindi questo vi permette di capire se ciò che vi raccontiamo giusto o meno. Fatelo, fatelo così avrete delle sorprese incredibili, magari soprattutto in località dove vi viene detto che i prezzi sono in crescita e invece stanno diminuendo in interattamento da 4-5 anni o località dove vi viene detto che saranno i paesi del futuro, quelli destinati a dare grandissimo ritorno sia in termini di reddittività che di capital gain. Fate questo confronto e avrete la possibilità, con questo strumento fantastico che è il web, di capire chi di noi sta raccontando le bugie. Vi saluto e vi auguro una fantastica domenica. Ciao!